Ci troviamo all'interno della boutique Modiamo. Modiamo è un progetto che è stato inaugurato a dicembre 2022 e vede coinvolte tre realtà che sono la Caritas Diocesana di Roma, l'IPAB Asilo Savoia e Trussardi. È un progetto che nasce nell'ottica di un'economia circolare. All'interno di questi locali infatti di proprietà dell'IPAB lasciati in comodato d'uso alla Caritas vendiamo capi d'abbigliamento donati da Trussardi. Capi d'abbigliamento che fanno parte o di vecchie collezioni o che magari non superano gli standard di vendita di Trussardi. Questo appunto anche per estendere il ciclo di vita di questi capi che altrimenti sarebbero destinati allo smaltimento. La merce viene venduta a prezzi inferiori. Questo dà modo anche a un bacino più vasto di persone di acquistare e permettersi il lusso di avere un accessorio, un capo Trussardi che altrimenti a prezzo di mercato non potrebbero permettersi. Tutti i proventi delle vendite vanno a supporto e sostegno dei progetti Caritas. Io faccio parte del team Modiamo da un mese più o meno e al momento mi occupo della selezione dei capi destinati alla boutique. A breve seguirò anche i tirocinanti che si alterneranno internamente al progetto nel loro percorso formativo. È un percorso che gli permetterà di arricchire le loro competenze e i loro curricula nella speranza poi di trovare un'occupazione nel mondo del lavoro.